Nasce anche a Trieste il primo Televita City Point, un luogo d'incontro che permetterà a tutti gli interessati di conoscere da vicino tutti i servizi offerti da Televita. La nuova sede inaugurata questa mattina si trova in via Imbriani 9. Da oltre 25 anni il gruppo Televita fornisce i propri servizi all'interno della regione. Ora con la nuova sede si potrà dare un volto ai servizi telematici dell'azienda, oltre a garantire al cittadino informazioni e orientamento su risorse pubbliche e private offerte al territorio nel settore sicurezza, benessere e salute. L'obiettivo principale sarà farci conoscere, farci conoscere a tutta la cittadinanza, questo per noi è molto importante. Secondo è far conoscere delle soluzioni innovative grazie alle tecnologie che tante volte sono temute, delle soluzioni per poter vivere meglio sia dentro casa che fuori casa. Terzo punto è essere un punto per facilitare l'accesso di tutte le persone anziane per far conoscere tutti quei servizi che vengono dati in questa città grazie anche alle collaborazioni con gli enti pubblici, col comune, con l'azienda sanitaria, con la regione. In concomitanza con l'inaugurazione della sede di via Imbriani, Televita ha lanciato il nuovo servizio Telewellness. Mette in rete delle realtà molto importanti, una è la G-Life, G-Life in area di ricerca, una start-up che si occupa di nutricentica e l'altra sono i device, i ELF, anche molto importante, dei device che misurano dei parametri vitali che assieme a un piano nutrizionale fatto appunto grazie all'esame del DNA e poi c'è tutta la parte degli operatori di Televita con dei personal trainer che daranno una mano a portare avanti gli obiettivi che ognuno di noi vuole portare avanti per stare bene.